C'è una differenza eccessiva considerando quanto visto sul campo? È grande, ma abbiamo lasciato dietro qualche punto in questa Serie A anche perché avevamo bisogno di fare belle prestazioni nella Champions non siamo riusciti a avere continuità in tutte e due competizioni siamo arrivati nella semifinali, questo conta molto la fatica il pensiero è sempre girato su una partita importante ma questa è una cosa che dobbiamo migliorare è imparare con gli errori e avere continuità su tutta la stagione su tutte le competizioni che giochiamo, dobbiamo giocare sempre per vincere Che foto dai alla tua stagione? Foto? È difficile valutare la stagione Potevi fare meglio? Sì, potevo fare qualcosa di meglio, devo crescere ancora Io sono giovane, a 25 anni devo crescere molto per arrivare al punto che voglio Qual è la cosa più importante che ti ha dato l'allenatore di Francesco? Principalmente l'organizzazione della squadra tanto difensiva quanto offensiva ma lui è uno che ha un desiderio grandissimo di vincere e lui ci porta questo sentimento per la squadra quindi siamo contenti, siamo stati bravi su questa stagione la squadra e anche lui Te la senti di rassicurare i tifosi della Roma per il prossimo mercato? Non parlo del mercato futuro, parliamo d'oltre Grazie Grazie Grazie